Ciao, sono Costanza, sono la studentessa della Scuola di Scienze Aziendali. Il mio gruppo, Nevisales, sta organizzando il progetto per Bellchimica. Il nostro obiettivo è quello di sviluppare il mercato di Bellchimica anche nel mercato nautico. Siamo emozionatissimi, non vediamo l'ora di andare di fronte a tutti a presentare il nostro progetto, però ovviamente l'anza inizia a salire, si inizia a sentire. Mi chiamo Matteo e ora sto insieme al mio gruppo facendo parte del Business Tutor in collaborazione con l'azienda di Pulsini Fiorentini. Ancora non abbiamo un progetto definitivo, finito, però ci stiamo lavorando su. Penso che la nostra idea sia innovativa e spero che anche la patria la ritenga tale e quindi ci vediamo al Business Tutor. Ciao, sono Dario Satti e sono attualmente collegato all'azienda Mercafield con il mio gruppo per quanto riguarda il progetto Business Tutor della Scuola di Scienze Aziendali Sabi. Diciamo che siamo un gruppo molto competitivo, vogliamo arrivare a vincere questo Business Tutor e speriamo che tutto vada bene. Il progetto si sostanzia in ampliare e modificare il mercato delle opportunità della Mercafield. Ci crediamo tanto e vogliamo assolutamente vincere. Ciao a tutti, sono Riccola Ramolini, uno studente della SAFI, Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali. Sono qui per parlarvi del nostro progetto finale Business Tutor che prevede la nostra affiliazione a un'azienda che si chiama Kisi SRL e questo progetto va ad abbattere un po', quindi a spostare il loro business che tuttora è sul self-check-in e lo va a spostare sui referi. Questo è un progetto che diciamo un po' ci ha impaurito un po' all'inizio ma ora sono molto determinati a fare bene quindi quello che vogliamo fare noi è vincere e ce lo metteremo tutto. Ciao a tutti, sono Anastasia Pupidi e faccio parte del gruppo Empower affiancato all'azienda Erba dei Chianti. Non vediamo l'ora che sia l'11 luglio per presentarvi il nostro progetto e vinceremo. Ciao, sono Raul Grassi della Scuola di Scienze Aziendali e sono uno studente di marketing. Faccio parte del gruppo Sweetable che lavora per l'azienda Textura. Il nostro piano prevede di realizzare capi di abbigliamento da uomo con materiali ricidati, acquistandoli da un'azienda terza. Il nostro obiettivo è quello di vincere ma soprattutto di donare un nuovo aspetto a quella che è la moda per quanto riguarda la sostenibilità e soprattutto il rispetto per il nostro pianeta. Spero alla fine di questo progetto di riuscire a vincere insieme al mio gruppo perché siamo affiatati e insieme sono sicuro che ce la potremo fare.